Prosegui il campionato altalenante, specie in trasferta del Calcio Aki, che oggi con la sconfitta di Caccuri vede allontanarsi ancora una volta la possibilità di inserirsi nella zona play-off. Eppure era l'opportunità oggi di poter avvicinare quanto meno Rossarese e Praia Torta, entrambe sconfitte in trasferta, per rientrare appunto al di sotto della soglia dei famosi dieci punti. Non c'è stata storia oggi quindi al campo di Caccuri contro una Caccurese ben determinata che si è portata addirittura sullo 3-0 iniziale con un rigore di Mercurio, poi i gol di Piperissa e di Aggiorno, mentre solo nella seconda parte, nella finale di gara, il Calcio Aki è riuscito ad accorciare le distanze con Lopez e Longo, ma hanno riuscita la rimonta complessiva della squadra appunto in trasferta di Aki, che alla fin fine si è dovuta arrendere al 3-2 finale, che come dicevamo rischia di compromettere tutta la stagione appunto del Calcio Aki.